l'artista esistenzialista ultimissime bremer erano rimasti l'inter l'offerta da 30 milioni di euro più riscatto contro riscatto casa dei quindi gli 8 milioni di euro contro riscatto al 14 quindi totale 38 milioni di euro e 3 milioni di euro al giocatore la juve aveva detto invece 4 milioni di euro al giocatore e 40 milioni di euro cash qualcuno dice anche 40 milioni di euro più gatti ma la situazione attuale quale nel pomeriggio tardo pomeriggio si incontreranno cherubini e vagnati dirigenti del torre quant'altro per parlare di questa famosa offerta della juve ma nel frattempo dieci minuti fa marotta avrebbe portato quei 3 milioni di euro a 3 4 all'anno in gaggio annuale e invece l'offerta o 35 milioni di euro più sempre il presso di casa dei o qualcuno dice sembra un po folle 30 milioni di euro e casa dei completo intero all'inter non mi risulta del tutto ma insomma vagliamo anche questa ipotesi ma se arriviamo sempre sui 38 milioni di euro ma la juve ha un'altra ass nella manica quale quei 4 milioni di euro che vuole dare a un ingaggio annuale a bremer dovrebbero diventare o 4 più 1 quindi 4 più 1 di bonus o 4 e mezzo siamo lì quindi chiaramente vedete comunque sempre un milione di euro in più e ripeto che 40 milioni di euro potrebbero diventare 40 milioni di euro più bonus oppure 40 milioni di euro più il presto di gatti e mal che vado andiamo sempre sui 42 via discorrente quindi al momento la situazione è sempre questa è comunque sempre attualmente in manna la juve se facciamo un discorso economico poi sul discorso del cuore la situazione di ieri avevamo detto sia che c'erano stati i famosi scambi di like e quant'altro con Chiellini e Marchisio ma c'era diciamo su instagram non so un qualche cosa che riguardasse l'inter e quant'altro c'era un like di bremer ebbene bremer quel like la ha tolto quindi voglio dire cairo e la dirigente del torino hanno le bocche cuscite non dicono nulla fino ad oggi pomeriggio non si saprà niente vi ti ripeto credo che massimo in serata nottate di oggi si chiude tutto però ribadisco se consideriamo che comunque seppur migliorando le somme e quant'altro credo che le situazioni dovrebbero rimanere quelle la cosa particolare è che se l'inter perde bremer stanno parlando di demiral con l'atalanto lo scambio con pilamonte e quant'altro e qualche altro centrale e anche Milenkovic lo va da una parte o dall'altra a me risulta che se l'inter la juve piglia bremer va a prendere un altro centrale ma con Milenkovic come vi dissi ricordatevi qualche video vecchio disse che la juve se vendeva delitto prendeva due centrali non uno quindi uno ha una certa somma e l'altro ha un prezzo un po' più basso come il caso di Milenkovic infatti Romagnoli è andata alla Lazio quindi c'era quell'opzione lì e quindi lì sul mercato a quel punto ci va o Gatti o Rugani Rugani potrebbe andare anche eventualmente a Bologna per Arnauto ci vedranno insomma come idea da qualche altra parte quindi questo è un pochettino le idee attenzione la situazione dell'intero che è molto delicata nel senso che io ho sempre pensato che bremer andasse a sostituire Skriniar a questo punto loro se tengono Skriniar vanno a più di un altro centrale potrebbe essere ripeto De Mirallo o quant'altro poi vedremo però la situazione particolare lì è che l'Inter ha comunque un buco ha un buco di 60 milioni di euro e se poi la cifra non sale e la cifra non salirà rimarrà tutto così perché sono toppe settimane che è tutto in stallo da parte del Paris Saint Germain il Paris Saint Germain secondo me è una società che quando vuole un giocatore lo compra in 10 minuti lo aspetta tutto questo tempo secondo me questa è un'idea personale un mio modesto maniere personale non me lo toglie nessuno dalla testa questa idea quindi ribadisco loro poi dovranno far vedere chi uscire ne potrebbero anche prendere due di centrali ma devono comunque far uscire un altro nome a meno che poi non lo toglie un'altra parte ci sono tanti problemati per quanto riguarda diciamo alcuni altri esuberi Sanchez non esce Pinamonti non si accorda come vorrebbe non vorrebbe andare a Monzo vorrebbe andare a Bergamo è un macello soprattutto delle problematiche anche la Juve ci mancherebbe sicuramente la problematica Artur al problema di Ramsey e quant'altro però ripeto la Juve con la moneta sonante in mano secondo me può dire qualcosa in più dell'Inter ripeto tardo pomeriggio se ne parlerà ma in questo momento credetemi io credo che il 45 e 55 è già diventato 50 e 50 signori e mi sto probabilmente anche contenendo l'artista esistenzialista buonasera da tutti